Un'attrezzatura adatta, in che cosa consiste? La discesa a bordo di speciali gommoni, ovviamente con degli istruttori qualificati, se tutto si svolge massima sicurezza, abbiamo percorsi anche per famiglie e per bambini, il tutto ovviamente con degli istruttori che partiscono dalle elezioni prima della partenza, vengono portati sui pugni di imbarco ed è appunto questa attrezzatura che è una unità stessa da noi. Ci sono tante le persone che passano annualmente per venire a conoscere sia la natura del Fimalao che ovviamente questo sport. La ringrazio. Comunque una cosa importante che succede anche all'interno del parco del comune di Orzomazio, dal 1992 ogni volta che nasce un bambino viene piantato un albero. Siamo stati ieri all'Alboreto e vediamo il servizio.